Una manifestazione nazionale, una giornata di sciopero dei dipendenti della metro, per quale motivo? Sì, certamente anche alla spezza il sciopero dei lavoratori metro, proclamato da CGL e CISL di categoria. Ovviamente la disdeta del contratto integrativo è quella che ci ha portato a proclamare questa giornata di sciopero. Tra l'altro noi avevamo presentato all'azienda una piattaforma che tendeva a chiudere un contratto integrativo in maniera equilibrata, cercando di tenere assieme quelle che sono le esigenze aziendali con le richieste da parte delle organizzazioni sindacali. Purtroppo l'azienda ha alzato un muro e sotto questo aspetto non ci ha dato la possibilità di chiudere un contratto integrativo. È chiaro che se l'azienda non si risiederà al tavolo e rimetterà al centro il tema della contrattazione sarebbero comunque obbligati a proseguire le forme di protesta. Quello che ci lascia perplessi è che l'azienda ha disdetrato il contratto quando non ci sono le condizioni. Questa è un'azienda che non va male, è un'azienda che ha fatturato l'anno scorso 1 miliardo e 700 milioni di euro, quasi 5 mila dipendenti. Quindi sotto questo aspetto è difficilmente comprensibile l'atteggiamento da parte dell'azienda. A ottobre scorso la Metro ha disdettato il nostro contratto integrativo e il 26 marzo, dopo 10 incontri richiesti dall'azienda, si è rotto il tavolo e la trattativa è saltata, soprattutto sul programma Tempo. Metro lo chiama Tempo e in pratica richiede una maggior flessibilità degli orari a tutti quanti i lavoratori. Noi siamo già lavoratori che lavorano tutti i sabati all'anno e parecchie domeniche, per cui andare a introdurre uno spezzato nei turni è veramente irricevibile e proprio per questa flessibilità ci richiedono anche maggiori ore lavorate nei fine settimana. Quali sono nel dettaglio i problemi che si pongono adesso ai lavoratori? I problemi principali qui dei lavoratori, la Metro di La Spezia ma anche Metro in tutta Italia, oltre alla flessibilità, è che le domeniche nel possibile nuovo integrativo andranno pagate meno, quindi è una cosa abbastanza inaccettabile. Il premio che si va a ridurre, questi orari flessibili che comunque vanno a peggiorare notevolmente la qualità della vita dei lavoratori, e ricordo che già tre anni fa siamo usciti con fatica chiudendo un integrativo che è stato anche quella volta peggiorativo. Questa volta le condizioni sono veramente ma veramente inaccettabili. I sindacati si riservano ulteriori otto ore di sciopero da gestire territorialmente se la trattativa non dovesse andare a buon fine.